Ciao ragazzi! Calcoliamo il massimo e il minimo della funzione x e alla x sull'intervallo chiuso e limitato meno 3 è 1. Calcoliamo la derivata prima e, ricordando la formula di derivazione del prodotto, abbiamo 1 per e alla x più x e alla x. Raccogliamo l'esponenziale e otteniamo e alla x per 1 più x. Poniamo tutto uguale a 0 per trovare i punti stazionari. Osserviamo che l'esponenziale è sempre positivo e quindi poniamo a 0 1 più x trovando x uguale a meno 1. A questo punto valutiamo la funzione in meno 1. Vale meno e alla meno 1. Calcoliamo anche i valori della funzione negli estremi meno 3 trovando meno 3 e alla meno 3 e in 1. f di 1 vale e. Allora abbiamo che il minimo è ritrovato in meno 1 e il massimo in 1. Come possiamo vedere anche dal grafico della funzione. Ciao!